Abbiamo qui con noi il Presidente di Rete, il Professore Rigno Bruttomesso. Perché è importante l'accordo? Beh, è un accordo molto importante perché è la prima volta nella storia di questa associazione che ha quasi 20 anni in cui sviluppiamo in modo innovativo quello che è un concetto fondamentale di Rete. Rete è fatta di nodi e qui stiamo sviluppando un nodo avanzato. Significa che più soci della rete qui a Napoli collaborano tra di loro per dar vita, come spiegheremo, a dei tavoli di lavoro in maniera che il tema della relazione nel Porto Città si possa articolare su questioni concrete e questi soci o anche persone che non sono soci di questa realtà e possano collaborare per arrivare a fare delle proposte in maniera che effettivamente si possa avanzare non solo a parole ma anche nei fatti. Grazie a tutti.